La MailArt è il linguaggio, il linguaggio che circola, che si muove, che connette, che progetta e che poi termina in uno spazio. L'ultimo progetto di MailArt, all'interno e nell'ambito del quale ci siamo ritrovati, per chiamata, per lettera diretta, arriva dal comune di Mioglia, Savona, provincia di Savona, via Roma 4, provincia di Savona. Progetto molto interessante perché ci hanno inviato un libro, qua giù, noi siamo qua giù, nel sud dell'isola. A questo libro, di cui poi tratteggerò a grandi linee il contenuto, è abbinata una lettera dove lo stesso comune ci chiede, dal momento che si tratta di un vecchio desueto voluto, di intervenirci su, di mutarlo e farne un libro d'artista. È una vecchia enciclopedia, si parla di Sardegna, si parla dell'isola tutta, la si racconta, per così come la si leggeva negli anni 70, si parla ancora delle industrie, delle industrie chimiche, di cave estrattive, l'industria del carbone e quant'altro. Questa è la chiamata diretta da parte del comune di Mioglia, la quale entro il 15 luglio, ovviamente, noi adempiremo.